Siamo in pieno centro storico di Messina, il porto si trova a ridosso della città e questa gigantesca nave della Grociera ha tutti e tre i radar accetti, in un ristorante proprio di fronte al palazzo il Tg1 è disturbatissimo su tutte le trasmissioni da un disturbo continuo, ovviamente non si vede il Tg1, mentre qua la nave tiene tutte e tre i radar accetti contemporaneamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.